Pensa a questa mano così, cinque, questo è il mio... Poi mi devi spiegare che cosa? Eeeh, forto sì, col cinque. Ah, così, sono le cinque liste. No, la mano, c'è il cinque liste. Non ho capito. C'ho una mano, il simbolo. Sigla, va. Cinque secondi la sigla, eh? Cinque punti. Percentuale di sutura. Signore, signori internauti materani, buonasera, benvenuti a questa settima, credo, puntata della Nota Storta che va in onda ogni lunedì sera alle 21, lo sto ricordando al nostro ospite che non ha mai seguito questo appuntamento. Che vuol dire? Vuol dire che tu guardi solo la televisione e non il web. No, 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 assolutamente, non il web. Eh? Non è vero. E in questa puntata ha già fatto Capolino Angelo Tosto, candidato sindaco per l'Udc, punto interrogativo. No, candidato sindaco. Indaco, sì. Lì c'è il punto esclamativo, però punto interrogativo per l'Udc che non si sa. Ne parleremo tra breve. Salutiamo innanzitutto Francesca, Michele e Michelangelo di Video 1 che ci stanno assistendo per quanto riguarda la parte tecnica. Le notizie le attingiamo dal sito ilmiotg, dal sito di informazione materano ilmiotg.it, ringraziamo sassilive.it ed eggia.it che sono le nostre antenne nel web che irradiano questa trasmissione e ringraziamo il nostro moderatore in chat, microfonato. Ciao a tutti, buonasera. Luigi Mazzoccoli, giornalista del resto, che riceverà e modererà appunto la nostra chat. Da dove partiamo? Dalla settimana appena trascorsa, Luigi sta chattando. Sì. Ecco, ci togliamo. Ci sono, ci sono. Partiamo con la rassegna stampa di Matera Taumi. Sì, allora, eccola qua. Che cosa è successo nella settimana? Allora, la prima notizia riguarda proprio il nostro ospite di stasera. Dal quotidiano del 14 febbraio, Angelo Minieri analizza la nuova politica. Minieri dice, Angelo Tosto è una persona geniale. Il commento di Matera Taumi, l'ho sempre detto io, che solo un genio può riconoscerne un altro. Genio tra virgolette, eh, lo devo precisare. Vai. Poi, da Basilica Tanette del 17 febbraio, è Lucana la Bruna nazionale del 2010. Si riferisce a un premio che è stato aggiudicato alla vacca da latter, Lufer Gordon Baby. E giustamente Matera Taumi dice, blasfemi. E poi c'è l'ultima che riguarda un concorrente per le prossime lezioni di Angelo Tosto. Dal pomeridiano del 17 febbraio, fumata bianca, il PDL sceglie Acito. Matera Taumi commenta, annunzio vobis, gaudium magnum, ri, 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 abemus, acitum. Eh, allora, per tutto il resto di questa rassegna stampa, vi rimando al sito del nostro anonimo collaboratore materano, materatown.net. Ti devo presentare ufficialmente con questa scheda, corretta appena, per quanto riguarda l'età, cioè già ti togli gli anni. No, non mi toglie, voglio essere preciso. Ah, quindi si è sbagliato Luigi Mazzoccoli. 61.9. Perché Angelo Tosto è materano, ma ha 61.9 anni. No, dobbiamo capire che cosa vuol dire. Sono parenti a 62, come si dice a matera. È sposato ed ha tre figlie femmine, come si suol dire. Felicemente padre e marito. La più grande delle quali di recente lo ha reso nonno. È vero, ahimè. Ah, ahimè. Consegue la qualifica. Poi la foto di mio ripote, ce l'ho. Perché no? Ce l'ho, ce l'ho. Ma non l'ho portata a posto, ce l'ho proprio. Non so se riusciamo a vederla. Ah, non te la faccio vedere. Ah, sì. Carina. Ti metto qua che mi ispira. È più bello il nipotino del nonno. Vabbè, tu, ma non ti prego, non fa la stagione degli innocenti, perché se no... Consegue la qualifica di ragioniere e subito inizia a lavorare nell'azienda di famiglia, un'impresa commerciale all'ingrosso e dal dettaglio di materiali edili, che poi chiude nei primi anni Ottanta. Nel 77 fonda TRM, radiotelevisione del Mezzogiorno, una delle prime emettenti radio-televisive locali d'Italia, di cui è tuttora presidente. No, non esatto. Non sei più presidente di Teatro? Da cinque anni, da sei anni. Quindi non sei più editore? No, non sono il presidente, non c'è l'editrice, ma rimango editore. La passione per lo spettacolo lo spinge anche a realizzare diversi grandi eventi in città, tra i quali la rassegna estiva Matera Viva in piazza San Pietro Caveoso nell'89, il concerto di Ray Charles, ero bambino all'epoca, allo Stadio 21 Settembre nel luglio del 90, memorabile. Bambino, Donato, non esaggiai, eri ragazzino. No, ero bambino, però stavo lì a seguire, già mi piaceva Ray Charles. E soprattutto diverse edizioni del Carnevale nei Sassi di Matera, negli anni Ottanta e Novanta, in quegli stessi anni è stato presidente della Camera di Commercio. Nel 2001 fonda la Data Contact, azienda che opera nel settore dei call center e delle ricerche di mercato. Nell'ottobre del 2008 acquisisce la proprietà del Matera Calcio. No, è sbagliato. Eh, effetti. Che è successo? Non sono proprietà del Matera Calcio, sono sponsor. Data Contact. Ma le notizie, la informazione deve essere corretta. Eh, ci sei tu. Lo dico io perché ci sono io, ma quando ci sono chi mi corregge? Chi mi corregge? I nostri visitatori in chat. Bravi, bravi. Dal 2007 è impegnato attivamente in politica. Dal 2007? E dal 2007, così. Attivamente no. Attivamente. Attiva vuol dire essere protagonista in politica. Sarà una puntata molto, molto, molto difficile. In quell'anno promuove un'aggregazione di liste civiche che sostiene il candidato sindaco Saveria Cito. Dici che è bugia. È vero, è vero. Si candida anche lui in una di quelle come consigliere, ma non viene eletto. Lo scorso anno sostiene invece Franco Stella, candidato alla presidenza della provincia per il centro-sinistra, costituendo un'apposita lista del presidente. Ora invece si candida la carica di primo cittadino, sostenuto dall'Udc, forse, dal Partito Repubblicano Italiano, dal Movimento per l'MPA, per l'autonomia, Rosa Bianca, Io Sud e diverse liste civiche. Ama viaggiare, il Brasile è tra le sue mete preferite, così ci dicono. E la musica. Preferite no, è una bella meta. Ed ama la musica, soprattutto il blues, ma anche il chill out, esi jazz, lounge, ed è appassionato di sudoku, ci dicono alcuni informatori. Ma che serio, questo è vero. No, non sono appassionato. E quando uno viaggia in aereo, ha finito le notizie del giorno, va dietro la paginetta, se è difficile oppure diabolico mi metto a fare sudoku. Se è facilitato o semplice non lo faccio. Di sudoku non ci capisco assolutamente niente. Immagino che ci siano già delle domande, è vero Luigi? Sì, ce n'è già qualcuna. Allora, poco prima di sentire le domande, come da scaletta, dobbiamo ascoltare cosa dice di te un tuo amico, per completare il quadro personale della... Amico? Perché qui gli amici... Vanno e vengono. No, sono in una categoria elastica. L'amicizia è una cosa seria, poi non so che detti tu per amico. Vediamolo, vediamo. Vediamo. È sorpresa. Sì, è sorpresa. Mamma mia. È un amico speciale. Le persone che mi conoscono sanno che la mia storia personale, anche quella professionale, è legata ad Angelo Tosto e quindi possono... È ovvio che si attendono che possa tracciare un profilo soltanto per caratteristiche positive. È così in realtà, ma non perché lo faccio, perché deve essere fatto. Perché lo conosco, lo conosco da 30 anni. Penso di lui che sia una persona risolutiva, dinamica, che ha grinta, ha coraggio, ha capacità. Lo ha dimostrato in tante circostanze. Alcune iniziative, alcune attività che mi hanno visto anche coinvolto. Hanno visto coinvolto me, come tante altre persone, in esperienze che poi sono risultate importanti. Ancora mi capita di, se penso alla stagione del Matera Viva, del Carnevale di Matera, ma anche a tutte le diverse iniziative editoriali, mi capita ancora di ricordare con piacere l'entusiasmo, l'esaltazione e l'emozione che ci hanno dato queste iniziative, questi momenti. Alcune delle cose, penso che, per quanto voglio dire, sono reali, concrete, sono agli atti, sembrano delle cose che ancora devono essere realizzate. La Puglia parla oggi di programma di calendarizzazione degli eventi. A Matera abbiamo avuto l'ardire di sperimentare una cosa di questo tipo 20 anni fa. Amico collaboratore, Francesco Giate, colgo l'occasione per salutarlo. Hai da aggiungere qualcosa a quello che ha detto Francesco? Beh, Francesco innanzitutto è ospite di uno studio, e quindi mi piace perché il fatto che lui abbia lasciato a voi e a chi gestisce questa struttura, che sono comunque costole, tutte costole, e il fatto che si comunino fra di loro non può che rendermi felice, perché io ritengo che la capacità di agire, di operare, di mettersi in proprio, di superare gli steccati che alle volte dividono gli amici, ma poi ritrovarli insieme, anche con le dichiarazioni, a me non può che farmi felice. Cioè possiamo diventare una centrale televisiva mondiale se mettiamo tutte queste teste insieme. Allora, vediamo che cosa ci stanno chiedendo o hanno da chiederti i visitatori del sito lanotastorta.info. Vai Luigi. Sì, c'è il solito satanino, il nostro affezionato ascoltatore che stasera si chiama Satanasso, però è sempre lui, me l'ha detto in chat, che è già partito con diverse domande. La prima riguarda appunto i trascorsi politici di Angelo Tosto e chiede come mai, nelle ultime tre tornate elettorali, compresa questa, che si è schierato con tre schieramenti diversi. Poi chiede se da sindaco eventualmente eletto promuoverebbe la trasmissione in diretta dei consigli comunali e poi chiede se è vero che stanno facendo, stanno telefonando a casa delle persone per chiedere voti. Falso. Poi c'è una domanda di Alcatraz, questa che non riguarda la politica, riguarda il calcio. E allora, vabbè, sentiamo. Sì, è l'ultima di quelle arrivate fino ad ora. Visto che appunto ha precisato che non è proprietario ma sponsor del Matera Calcio, chiede quando, se eventualmente già prescritto un termine, scadrà la sponsorizzazione. Allora, qual era la terza domanda? Quella delle telefonate. No, quella della quarta. No, quella era la terza. Poi c'erano le telecamere, le riprese in diretta del Consiglio Comunale e il discorso dei tre schieramenti diversi. Va bene, devo rispondere subito, come è la... Immediatamente, così, vedi, perché in questa maniera... No, mi devo scusare perché mi hanno già fatto perdere la voce, quindi secondo me rimarrò muto al termine di questa campagna elettorale. È stato Ruggero dell'Udc, eh? No, assolutamente. Guarda, tu mi puoi fare caso, su Ruggero io non rispondo. Va bene. Poi ti do la semplice alla fine. Rispondiamo ai visitatori della chat. Allora, i trascorsi politici, credo di non essere individuato come politico. mai sì e mi dovesse individuare come politico perché io mi ritengo un antipolitico per eccellenza. Devo anche dire, perché probabilmente, già nella tua premessa, ricordando i passaggi temporali e nella domanda di Satanasso, credo che vada... ha dato una motivazione per cui ho deciso di... non posso dire scendere in campo perché mi ripeterebbe... Eh, va, lo stavo già pronto io. Lo so, non lo posso dire. Di affrontare questa sfida, questa battaglia, come qualcuno dice, è una sfida, è una competizione elettorale. Molti amici mi hanno detto che, dopo la caduta dell'ultima amministrazione, mi hanno detto che probabilmente sarebbe stato molto meglio per tutti se io, in questo periodo, me ne fossi andato in vacanza per due mesi, perché io ho fatto solo danni. Cioè, gli amici mi dicono che ho prodotto solo danni. No, vabbè, non tutti ti hanno detto di non fare questo passo per... No, no, gli amici mi hanno detto o tu te ne vai in vacanza, perché finora hai prodotto solo danni, poi li hai citati tu dal primo all'ultimo, l'ultimo stella, o fai una cosa, tira fuori gli attributi, metti li sul tavolo, mettici la faccia, e così la finiamo. Il primo, il secondo, il terzo, e quindi, alla fine, per amore per questa città, orgoglio, dignità, o dico, ora me ne vado in vacanza oppure scendo in campo. Ho deciso di scendere in campo, ma non in campo sportivo, cioè proprio... Anche, voglio dire. No, ma non c'è niente lo sport, io sono amareggiato per le condizioni in cui si dà lo sport nella nostra città, poi lo spiego se vuoi. Ma la scelta è stata dettata nella condizione di una assoluta consapevolezza di essere l'antipolitico per eccellenza. L'antipolitica in questa città, e lo abbiamo sentito anche ieri da Salvatore Adduce, candidato del centro-sinistra, conoscerlo. No, di sentirlo, conoscerlo conosco benissimo. No, ha semplicemente detto che anche in città c'è l'antipolitica, però in genere ci si riferisce a questo termine per i movimenti di Beppe Grillo, di persone che comunque hanno la politica in testa. Sicuramente tutti i movimenti se nascono e se crescono davanti a una motivazione, un ideale, un progetto, un sogno, un desiderio, sono innanzitutto da ascoltare, perché molti non li ascoltano per prosopopè e per arroganza. Uno. Due. Sono da sostenere, indipendentemente dalla loro posizione, perché secondo me è l'unica forza, l'unica vera, come devo dire, autonomia che ci rimane, perché questa logica del bipolarismo o questa logica dei partiti o questa logica di coloro che per conservare il posto nella politica si allungano la vita continuando a succhiare la libertà delle persone mi vedono esattamente in una posizione opposta. Io so di rompere questo schieramento, questa logica, perché? Perché ho i titoli, o i credits o il pedigree e quindi per questo motivo io poi sono orgoglioso se questi amici mi hanno detto basta, o tu o te ne vai e non fare più danni, perché ogni volta ne trovi uno sperando che sia una mela buona, poi quando è alla fine c'è sempre un verme. Tra questi amici hai citato anche Franco Stella col quale ho parlato ieri. Franco Stella è un candidato preso dalla società civile e diventato presidente della società civile e io spero che anche alla fine di questa querella politica rimanga comunque un rappresentante della società civile. Lui non è un politico, lui è stato candidato come rappresentante della società civile. Oggi è un politico, vero, accetta lo schieramento come una parte politica, tradisce le speranze dei suoi amici e fra questi traditi ci sono anche io. Lo dico con carezza, perché sono una persona fiera delle proprie scelte e per orgoglio dico che quando uno tradisce non merita il perdono. Angelo Tosto vabbè lo conosco da tanti anni quindi se c'è una caratteristica poi diranno che sono parziale con te perché insomma è una persona leale. Guarda, una vecchia sigla commerciale di Mater diceva parziale e buono. Tu sei buono. Senti, andiamo avanti. Sento il rumoreggiare della chat. devo finire le risposte. Ah no, era solo la concisione. Allora, ultime tre tornate credo di aver dato la risposta non mi sento, mi sento antipolitico. La ripresa in diretta dei consigli comunali credo che sia un problema posso già dichiararlo che scatterebbe il meccanismo del conflitto di interessi perché dovendo chiedere a un emittente locale non ne vedo molto in giro di trasmettere in diretta i consigli comunali e siccome il comune dovrebbe pagare questa cosa io mi troverei in conflitto di interessi. però si può fare una gara d'appalto ma si può fare tutte le gare ma se non c'è il competitor che se dobbiamo andare sulla luna ma se dobbiamo andare nell'ambito locale non esiste e tramite web si può fare tramite web si può fare anche mettendo un circuito chiuso nelle famiglie ma posto comunque tutto ma sicuramente la totale trasparenza degli atti comunali sono una delle cose fondamentali per creare una logica di comunicazione fra potere e cittadini cosa che è mancata totalmente specialmente in questi ultimi 18 17 anni e tre quarti che poi è quello il problema alla fine angelo il problema grosso se poi ci sono persone che telefonano per pigliare i voti è una tale terribile bugia perché siccome queste persone bisogna pagarle a fine mese i nostri committenti pagano le telefonate io non ho da pagare per fare la politica perché ritengo che la politica della città se è fatta come antipolitica non deve essere pagata per cui sarebbe assurdo che io pago delle persone per chiedergli il voto per me io mi offro alla città se la città mi vuole mi vota se non mi vuole mi boccia e io ho il coraggio di essere bocciato la terza o quarta ho detto tutte e quarta mi dispiace c'era la richiesta di Alcatraz sulla sponsorizzazione al Materacalcio la sponsorizzazione al Materacalcio è una sponsorizzazione che dura tre anni l'azienda ha deliberato nell'epoca la sponsorizzazione al Materacalcio per tre anni la sponsorizzazione termina con la stagione 2009-2010 allora a questo punto ti devo porre delle domande che noi raccogliamo e tu continua Luigi Mazzoccoli a annotare quelle più interessanti le poniamo nella seconda parte c'è un sito a Matera si chiama materatown.net il quale è gestito e curato da un blogger materano fuori sede nel senso che lavora studia fuori Matera guarda da lontano e dall'alto i problemi di Matera e soprattutto ci aiuta a raccogliere queste domande e a porle in forma ironica spesso molto tagliente e graffiante te ne pongo un paio vediamo che cosa la cassetta del pronto soccorso no presidente tosto ti devo dare di lei perché lo impone il protocollo di Matera ma la comunicazione è angelo quindi perché mi devi chiamare presidente di che cosa perché l'ho fatto così con tutti gli altri è venuta adunce angelo eh vabbè però presidente tosto angelo lei si presenta come candidato sindaco di Matera town questa nostra cittadinanza virtuale no Matera town è reale ma che te ne frega allora presidente tosto lei si presenta come candidato sindaco di Matera town sei virtuale non credo no no io vorrei che Matera town fosse virtuale è Matera 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 appoggiato salvo ripensamenti dell'ultima ora da partiti di area cattolica questa sua nuova veste di portatore di valori cristiani è dovuta al fatto che vuole organizzare anche se in ritardo una nuova edizione del carnevale di Matera io non confonderei il sacre profano sicuramente se ci fossero le condizioni per organizzare non solo il carnevale ma anche altro non ho non ho vergogna a dire che l'organizzerei ma ritengo che un'area moderata che poi dobbiamo capire che vuol dire la moderazione ma la capacità la necessità e quindi la capacità di riappacificare queste città non può che venire da lì non può che venire da un'area che ha logiche non di mediazione ma di raccogliere sostanzialmente la parte normale la parte che produce la parte che crede nella buona vita di una città è che si fa carico con le proprie risorse di ascoltare i segnali deboli perché in queste città ci sono tantissimi segnali deboli noi non vediamo una città dove la gente grida noi vediamo una città che è silenziosa tanto silenziosa che nelle nostre proprio nella nostra regione ma nella nostra città quando un'attività commerciale va male non si chiude dalla sera una mattina si resiste si resiste si resiste si tolgono i soldi dal tran tran quotidiano per sostenere una famiglia perché è una vergogna chiude un'attività commerciale che è una cosa totalmente opposta a quello che succede da confine la basilicata in su anzi ci sono quelli che per il mestiere fanno aprono e chiudono aprono e chiudono perché il mestiere è nuovo di come riciclarsi beh questo è un valore e quando uno non ha la forza di mandare avanti un'attività e soffre e chi ascolta quel segnale debole non vedo non vedo questa capacità parlo del terzo settore ci sono persone che telefonano il giorno prima di un atto dovuto che è dare l'assegno alle persone che non possono arrivare alla seconda settimana che sfruttano questa occasione per telefonare domani ti arriva l'assegno un diritto questa è una vergogna non si può sopportare tu puoi dire a una persona puoi fare la comunicazione che vuoi ma se uno stato di bisogno tu comuni che gli sta arrivando un assegno che è dovuto per me è un'offesa ne sono capitati cose del genere tu hai sentito parlare sicuramente della lista civica Matera cambia i ragazzi del circolo Giugni Mimmo Genchi loro hanno organizzato quella manifestazione un voto per un piatto di pasta e fagioli dove hanno raccolto anche in quel caso ovviamente lo puoi fare esclusivamente in maniera anonima tutti i casi occorsi durante appunto le varie campagne elettorali dove dietro promesse di voto si nascondevano spesso molti ricatti Mimmo Genchi l'ospiteremo qui sarà credo l'ultimo a chiudere la serie di questa nota storta sino ad aprile a marzo Presidente Tosto è la domanda no quella era una mia considerazione personale Presidente Tosto lei è un imprenditore certo mi raccoma queste sono domande ironiche se io rispondo con se vuoi rispondere con ironia no lei è un imprenditore proprietario di una televisione e di una squadra di calcio molti per questo motivo la definiscono un berlusconi locale in caso di vittoria ci dobbiamo aspettare le ragazze del calendario 2010 di TRM che al sesto piano del comune cantano meno male che Angelo c'è no ironicamente posso rispondere di pancia uno non è vero che sono il proprietario della squadra di calcio e l'abbiamo detto prima diciamo che abbiamo tagliato una metà però c'è questo legame in ogni caso con il materiale devo dire che posso ironicamente dire che la televisione in Italia è finita perché in Italia due persone c'erano prima che sapevano fare la televisione io e Silvio Berlusconi se Silvio Berlusconi è impegnato in politica e qui non la fa più la fa il figlio il nipote e se io mi impegno in politica non c'è più nessuno che fa la televisione quindi finita la televisione c'errai quattro del tuo vecchio chi è rai quattro rai quattro come si chiama rai quattro carlo beh non mi ricordo il commento carlo rosselli no chi è è stato direttore di rai due ai tempi d'oro della dandini con guzzanti non c'è nessun carlo che conosco io conosco il mio amico è Locatelli direi tre carlo Frecciero è una persona che va di sopra delle parti ma non fa la televisione quella che intendi tu generalista quella che cattura l'ascolta io penso è una televisione diversa annaggia non mi viene il nome Frecciero quello che iniziava le trasmissioni scrivendo la sigla di coda e poi era lui quello non sa fare televisione carlo Frecciero ho capito ma sta sul satellite se non vede nessuno la televisione è morta certo preparatevi siamo prontissimi insomma sento questo bip che proviene dalla chat ci sono diverse domande interventi commenti sono finite le domande sì quelle di Matera sono finita un po' più di creatività di fantasia mi sento non graffiato mi sento allisciato insomma diciamo la verità no no ce ne sono ce ne sono tante cattive possibilmente cattive sì ce ne sono di cattive ma voi ce l'ho pronta qua vedi ti sfido questa è cattivissima l'ho saltata perché perché a me pareva troppo cattiva ma vai non avere pudore presidente c'è qualcuno qui che si dissocia perché dice no questo non si può fare presidente Tosto apprendiamo che stanno insegnando al suo nipotino nato da poco a chiamarla Angelo invece che Nonno questo perché certe parentele è meglio non pubblicizzarle per il bene del neonato vedi no sei rimasto di un po' no voglio dire credo che fin quando il neonato non avrà raggiunto la mobilità autonoma la parola e vive in un ambiente protetto innanzitutto e me ne non confone con i suoni perché non vorrei che dicesse prima nonno prima Angelo e poi mamma cominciamo a dare i tempi giusti ci stai molto con due nipote sei molto legato no mi piace di sorridere gioco porto la foto immagino un attimo ma lo faccio contro ogni mia non prevedevo anzi pensavo di essere duro nei suoi confronti però ahimè infatti per quello che mi ricordo io i bambini ad una certa ora devono stare nel forno certo però ahimè purtroppo lo adori no lo adoro mi toglie i pensieri quelli pesanti mi fa mi fa sorridere per farlo sorridere sorride anch'io e quindi ci divertiamo così è piccolino ancora è comunque Angelo Tosto questo genere di domanda poi proviene anche lo mi permetto di dirlo dal fatto che è una persona che divide moltissimo divide non perché sei tu che vuoi dividere ho detto che devo unire che se stanno accendo voglio unire però c'è un po' questa cosa se questa città si ria pacifica non andiamo a nessuna parte e a te o ti amano o ti odiano lo sai benissimo l'importante è che non ci sia indifferenza no l'indifferenza non credo proprio e allora sentiamo Luigi che cosa quindi è una è una condizione proprio da ballottaggio questa no ma siamo si odiano siamo al ballottaggio è così non riesco ancora a trovare una sfumatura quando parlo con le persone Angelo Tosto eh ma quello sai che poi no è una persona straordinaria cioè non esistono mezze misure e tu sei pure così di carattere ho capito ma sono di centro penso un attimino ah poi non sei manco di centro no mi metto al centro perché questi due ah devi aggregare questi due mondi si devono se no non si risolve il problema di questa città lo vuoi capire cioè è fondamentale cioè spieghiamo a tutti quelli che la pensano in modo diverso va benissimo dividiamoci facciamo tutto il percorso di questi 36 32 giorni che ci dividono all'ora X va benissimo una volta finita questa commedia ci dobbiamo mettere tutti quanti insieme esiste uno in questo meccanismo perverso che riesce a parlare che non continueranno a lanciare le freccette perché poi c'è un'altra scadenza elettorale e poi ce ne sono un'altra continueranno ancora a dividersi io non ho nessun interesse a dividere uno perché non ho da fare carriera politica due perché non ho padroni politici che mi manovrano quindi ho solo una strada quella di metterli insieme perché questa città si risolve solo se stiamo tutti insieme anche quelli che hanno fatto una competizione ragionando in modo diverso con cui io non me ne può fregare meno da che parte arriva se hanno delle cose serie da dire e le sono disposte a fare qualsiasi tipo di collo io le prendo e le faccio mie se ci sono delle cose da cui dissento io glielo dico questa è una cosa che non si può fare sentiamo che ci dicono dalla chat questo è il vero rapporto con i cittadini e le persone che approfondiscono la conoscenza di altre si arrivano tantissime domande alcune di carattere prettamente politico per esempio un anonimo che però forse fa una domanda che probabilmente è superata dagli eventi dell'ultime ore dice nel caso dovesse venire Casini a Matera per la campagna elettorale delle regionali e comunque Tosto fosse sostenuto dall'Udc come come affronterebbe questa situazione proveri a fare nello stesso momento una riunione in un'altra piazza e pregheri Casini di fare la presentazione da me e poi andare a fare la comparsa nella competizione regionale poi Alcatraz chiede tra i partiti che sostengono Tosto ci sono l'MPA e l'USUD che hanno dei principi federalistici un po' dice Alcatraz come la Lega quindi dice Tosto condivide questi principi no io non condivido la logica perversa del federalismo che fa delle differenze nord-sud ritengo invece molto fondata la necessità di lasciare sul territorio le proprie risorse faccio solo un esempio può il sindaco di Matera futuro andare a controllare il contatore che misura quanto petrolio viene estratto da questa terra e che percentuale di royalties vengono lasciati in questa terra non ne ha né la competenza né le autorità ma può tuonare con i mezzi che sono messi a sua disposizione che anche questa è una grande truffa sulla pelle dei lucani e quindi della nostra città può tuonare contro un presidente della regione che fa un accordo con i nostri cugini pugliesi per dare acqua come giusto che sia ma non chiede nulla in cambio anzi non chiede priorità uno alla Puglia di completare quest'unico luogo di comunicazione che si chiama strada non avendo la ferrovia ma possiamo avere almeno la materia a Bari poi pensiamo a tutto il resto no a potenza si decide priorità uno con la Puglia la potenza a Bari e non è possibile e noi siamo sudditi noi siamo una dependanza non ne possiamo più lui si ce ne sono ancora tantissime e vai e poi siamo qui mica c'è l'orario del palinzesto no possiamo andare una scadenza no 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 un'ora massimo quindi abbiamo un'altra mezz'oretta allora c'è un anonimo che chiede come mai è finito l'idiglio con acito e poi in seconda battuta perché diciamo ha voltato le spalle tra virgolette a Buccico no io non ho mai voltato le spalle a Buccico Buccico l'ho anche scritto ho fatto le creazioni ufficiali ufficiali basta andare su google e uno legge quello che ho scritto sia nei confronti di acito che nei confronti di Buccico ha uscito il candidato sindaco che ha perso nei confronti di Buccico per 700 voti Buccico è il candidato sindaco che al secondo turno ha fatto la coalizione con le liste civiche portando in questa coalizione il 46% del patrimonio 100% del suo elettorato acito dopo poche settimane si è consegnato a Buccico Buccico l'ho acquisito ritenendo che acito fosse il legale rappresentante di questo 46% cosa totalmente non vera le liste civiche hanno comunicato dopo credo 10 giorni al sindaco Buccico che la rappresentanza non era nelle mani di acito ci sono i documenti e da quel momento è cominciata una sorta di carelli che non ha fatto amministrare Buccico io sono sceso in campo in aiuto posso dirlo in aiuto a Buccico facendo una ricreazione sui giornali Buccico potrebbe essere il miglior sindaco di Matera per competenze carisma dimensione culturale capacità oratoria tutto può fare l'unica cosa che non può fare non può fare l'aggiunta a uno io l'ho scritto come messaggio chiaro ma è come voler parlare al muro è stato come voler parlare al muro avremo comunque Saverio Acito quale candidato sindaco per il PDL per il centrodestra lunedì prossimo sentiamo che dirà lui però appunto tu hai quando vuole sono disposto a fare un confronto con Acito con Buccico chi volete voi non ho problemi non ho scheletri non ho l'armadio quindi non posso avere scheletri vai vai sì Tempa Rossa invece chiede come gestirebbe il discorso della mobilità nei sassi questo è un grosso problema lo sai benissimo anche perché poi ti ricordi nel 2007 io voglio solo dire che nel 1986 io ho iniziato a dialogare con Renzo Piano perché si prendesse cura della città di Matera sul problema sassi di sito unico al mondo e la sua mano ci desse la forza di risolvere tante problematiche la prima i sassi vengono erroneamente considerati un centro storico non sono un centro storico sono un pezzo antico di città che deve essere assolutamente aggregata al resto di città e rivitalizzato quindi chi parla di centro storico pensando ai sassi fa un errore madornale forse fra n anni dipende dal tempo che ci metteremo insieme potrà diventare il centro storico oggi è ancora un pezzo di città antica non collegato non voglio dire morta che in rianimazione la stiamo alimentando perché ritorni un pezzo integrato di città forte che sia un attrattore per mille cose che si possono fare ma chi immagina i sassi un centro storico fa un grande errore siccome sono un pezzo che si deve aggiungere esiste necessariamente un problema legato alla mobilità che deve tenere conto di un grandissimo errore che si fa nella nostra città di risolvere i problemi mettendosi al di fuori del peso che la soluzione del problema comporta mi spiego se uno abita in via Castello ed è innamorato dei sassi e solo perché è innamorato dei sassi fa l'esteta è chiaro che giudica la mobilità dei sassi il parcheggio un grandissimo problema come? giudica un grandissimo problema quindi quasi un'offesa le migliaia di persone che arrivano da fuori e non si rendono conto che poi chi vive nei sassi ha problemi drammatici allora qual è? la linea da dover seguire innanzitutto il rispetto di coloro che hanno deciso di andare a vivere nei sassi se una famiglia va a vivere nei sassi e si fa carico di mille problemi legati alla vita moderna si beve l'acqua minerale si porta il passeggino i bambini devono avere gli amici e bisogna fare e vedere la partita insieme e bisogna socializzare se uno dovesse vivere nei sassi e dovesse avere il permesso per il passaggio solo per quell'unica macchina di famiglia quella famiglia diventa squinternata non può avere amici i bambini devono rimanere soli allora tu puoi anche attivare un meccanismo di questo tipo lo devi concordare con chi ci vive perché sono i primi che hanno creduto in un'operazione del genere e quando ci hanno creduto quelli che sono andati a abitare e quando ci hanno creduto coloro che sono andati a investire sono andati lì mettendici cuore cervello e portafogli davanti a una condizione di vivibilità normale come quella degli altri luoghi ma se poi dopo aver fatto questo sforzo chi vive in via Castello decide che dalla sera mattina non bisogna passare più nei sassi sbaglia perché non ha rispetto di queste persone che ci hanno messo testa cuore e portafogli perché queste persone mi vengono malissimo allora è ammirevole il fatto che esterni si preoccupano dal punto di vista ambientale dal punto di vista dell'immagine dal punto di vista dell'accoglienza perfetto ma se non si trovano soluzioni alternative prima non si possono limitare le condizioni di vita normale di chi è giù nei sassi allora la domanda che mi dovrebbe arrivare ulteriore ma come si deve fare ma ci sono mille problemi quando io ho portato Renzo Piano il primo problema che pose Renzo Piano era fare sotto porta posterga e non pistola come viene chiamata un parcheggio invisibile con macchine che avevano portate totalmente sotto che avrebbero risolto la mobilità il parcheggio qui non facendo vedere le lamiere di multicolori con le gomme sulle ruote sulle scale con i cementi che fanno saltare i gradini c'è una gimpana che è una cosa orrenda quindi tu sei ovviamente ma se non crei le condizioni è offensivo per chi ci vive e dirlo tu con la macchina non ci devi andare e quindi invece di unire dividiamo di nuovo si continua follia effettivamente se alla fine di questa competizione avrò l'onore l'onere il piacere non so che cosa di amministrare questa città in modo condiviso ascoltando tutti senza avere il barbaro modello ho già deciso ma per essere democratico ascolto tutti ma tanto ho già deciso no ascoltando tutti e capendo dove ci sono i problemi e cosa comporta ogni mossa solo così si può amministrare non mettendo l'uno contro gli altri perché questo è un problema che c'è in tutte le strade ma scusate è stato chiarissimo vedi i tempi tempi stretti andiamo avanti si poi giungono no ne voglio vedere il più possibile prima di dedicarci alla rubrica del tarlo del 2019 che scava questo tarlo che cos'è questo tarlo è un animale è un animale che fai boh si poi giungono domande un po' generiche riguardanti il programma c'è del candidato sindaco il programma non è non c'è un programma ci sono delle linee guida ovviamente io domenica faccio la presentazione della mia candidatura al teatro Duni non si può dire che pubblicità pagata no no lo puoi lo devi dire anche perché non mi arrivano più i messaggi solo da te non so che è successo ma forse c'è qualcuno che ci divieta alle 10 e 30 al teatro Duni per cui lì ci sarà un'occasione per incontrare chi ne avesse voglia per spiegare a tutte tutte le persone che si sentono coinvolte in questa competizione o chi da cittadino vuole capire un po' di più perché chi sono perché e che cosa voglio fare ma non avrò un programma già predisposto perché sicuramente per costruire un programma preciso e senza raccontare si può dire cazzate cazzate alla gente che ha le scatole piene di avere numeri farfalle che volano cose farlocche in giro raccontando esattamente cose si può e in che tempi si possono fare solo così si può scrivere un chiamiamolo programma un canovaccio ascoltando le persone ascoltando delle associazioni di categoria le associazioni culturali i gruppi che hanno voglia di partecipare solo dopo si può scrivere un canovaccio che sarà poi la mappa che ci porterà per tempi e per cose da mettere in priorità al servizio di questa città chi se ne viene con i programmi scodellati ne ho visti tanti tanto nessuno li legge non ha nessun senso significa soltanto pacificarsi la coscienza Luigi no c'erano ripeto alcune domande generiche sul programma poi alcuni chiedevano in particolare cosa farebbe per rivitalizzare l'economia e quindi l'occupazione a Matera altre ancora le politiche sociali e giovanili era Yoda in particolare che faceva queste domande io aggiungo a questo punto il turismo e poi magari fongo alcune domande che ho raccolto sul turismo così evadiamo allora siccome è semplice dire che andrei in giro questa mano aperta con la scritta tosto sindaco che è una mano qui siamo già in ambito di comunicazione siamo in ambito di comunicazione è una mano e vediamo che cosa combinerai di diverso originale proprio semplice pensavo che i manifesti di adduce quelli in dialetto fossero i tuoi io non ho bisogno di parlare in dialetto per dire che sono materano eccolo è una cosa semplice non devo non devo aumentare i valori di materanità no sono materano lo sanno tutti poi ha usato pure il biancazzurro vuol dire che userò il rosso nella sagoma si vedevano gli occhiali mi chiedevano ma quello è Angelo Tosso è chiaro che è lui solo lui può fare il materano la campagna d'attesa il biancazzurro invece vedi si è stato adduce piuttosto di tosto no no non lo so adduce so che è un politico ma non è che hai fatto tu da consulente di comunicazione no no ti prego ma devo dare risposte scusami no no vai è un provocatore ma tu sei proprio un provocatore senti che non si possono dire parolacce se no allora andiamo tutte le domande le politiche giovanili poi parliamo credo che ci sia qualcosa che riguarda il terzo settore se ho capito bene l'assistenza ai servizi sociali sì politiche sociali e politiche giovanili e economia no no politiche sociali e politiche giovanili sono naturalmente diverse sì sì no sono state due domande fatte separatamente però c'è una che riguarda l'economia economia e lavoro economia e lavoro allora primo problema lavoro io presento una mano con cinque punti una mano aperta che può essere anche fermiamo le orde barbariche che arrivano a destra e a sinistra aperta perché onesta posso gridarlo con cinque dita che vogliono dire cinque punti i miei cinque punti sono semplici quelli spiegheremo lavoro 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 e lavoro basta non esiste altro è la base per far saltare il tappo all'appiattimento in cui siamo caduti questa città c'è oggi 2430 persone in cassa integrazione che sono prossime alla mobilità qualcuno è già in mobilità non si preoccupa nessuno queste 2400 persone fanno un numero spaventoso quasi 8000 persone che non sanno cosa faranno dopo e nessuno gli dice cosa faranno mi sembra assurdo che nessuno si preoccupi di questo disastro che è il disastro che si aggiunge a tutti i disastri che vengono dalle torri gemelle l'economia mondiale che crolla l'Italia che c'è il debito pubblico il sud che ritarda no noi abbiamo in più questo disastro che viene dal mondo del salotto questi fanno intendere che il salotto può riprendersi è falso sono d'accordo il salotto è finito la cassa integrazione e la mobilità sono la penicillina per tenere in vita un morto non serve assolutamente a niente ma abbiamo il tempo per come ricollocare rianimare rimettere in gioco 2430 persone e siccome non esiste nessuno che ti fa i miracoli io uso una regola semplice può il sindaco in una città preoccuparsi di questo certo non può sono competenze nazionali regionali ma il sindaco ha delle responsabilità uno sollevare il problema duramente due creare le condizioni perché le soluzioni possibili siano facilmente attuabili quindi se è necessario fare varianti al plano regolatore assumere posizioni nette per inserire nuovi spazi diversi da quelli che esistevano come recuperare gli immobili esistenti per fare attività di qualsiasi tipo purché non diventano catternani nel deserto se questo è condiviso da un gruppo di persone coraggiosi bisogna farlo subito perché se tu vuoi salvare 2.530 persone non c'è la Fiat che te le salva anzi pensate che la Fiat ha un problema a termini merese deve mandare a casa meno di 2.430 persone non ha ancora chiuso lo stabilimento avete sentito che è successo in Italia ci sono 24 24 forse diventano 27 a fine di questa settimana manifestazioni di interesse di gruppi industriali che vogliono sostituire la Fiat ma dico io ma come mai di questi 24 forse 27 non ce n'è uno che abbia fatto la manifestazione di interesse per venire a collocarsi qua c'è qualche problema un problema politico politico perché non c'è la dimensione politica e demografica di far pensare che cos'è il danno che questa terra sta avendo ma il sindaco può fare delle cose che insieme ad altri sindaci costringono i presidenti della regione Puglia e Basilicata ad andare a Roma perché sennò qui il problema diventa talmente grosso che forse si ferma l'Italia ma non come minaccia solo per dire guardate che campiamo solo noi chi sono questi cosa hanno fatto questi lo chiedo nulla si preoccupano di fare i comunicati in stampa successo al tavolo romano perché abbiamo avuto la cassa di creazione per altri tre mesi vergogna vergogna Angelo ti faccio una domanda perché soprattutto sull'urbanistica sono arrivate diverse sollecitazioni con lo stesso Buccico ci sono stati qui procuro o non so cosa comunque tu come pensi di risolvere per esempio la situazione urbanistica della città priva di strumenti e bilanci che rispecchino le vere esigenze e necessità dei suoi abitanti darai priorità la realizzazione del regolamento urbanistico del piano strutturale certamente ritieni di espandere i limiti urbani con nuove costruzioni assolutamente no propendi quindi per il recupero e la riqualificazione dell'esistente le cose che hai detto poco fa come pensi di coinvolgere se il caso la cittadinanza nelle scelte urbanistiche rendendo magari pubbliche le azioni amministrative in genere in maniera anticipata perché si possano condividere queste scelte non facendoli all'ultimo minuto tanto così e se vi pare gli assessori da coinvolgere nel suo team saranno tecnici è già in mente per esempio una squadra nel caso dovessi essere non solo poi per l'urgo una squadra cioè tu diventi sindaco il sindaco tra le prerogative cioè adesso qua ora ti metto a dire chi sarà la mia squadra e tu mi fai una domanda dicendo io dici ah la squadra Renzo Piano faccio un esempio ma è credibile quello oppure i criteri di scelta della squadra i criteri di scelta sono ognuno al proprio posto secondo le competenze e le attitudini quindi personaggi a cultura variabile competenza variabile tanto serve solo assistenza aduce l'altra volta proprio qua su questa poltrona ci ha detto che un manager un amministratore che ha questo genere di competenze lui per esempio sta ad Agrobios non deve necessariamente conoscere la materia di cui si parla però deve essere in grado di gestire gli uomini e le persone e questa è la politica contro l'antipolitica e io sono esattamente sulla posizione opposta proprio totalmente opposta sarebbe giusto per chi ha responsabilità gestionali amministrative di governo avere le competenze e non essere competenti solo di una materia gli assessorati esistono perché bisogna dare competenze delegate precise ti potete dare fuori dalla tasca un foglietto vi sono già scritte le competenze quali sono le cose da destinare quindi il tuo criterio sarà questo nel dettaglio faccio solo un esempio esiste la delega ai rapporti con l'UNESCO non esiste passa fra sassi cultura turismo ma possiamo spiegare in una delega ad una persona competente delega ai rapporti con l'UNESCO se no l'UNESCO si caccerà da dentro per forza perché non abbiamo rapporti faccio piccoli esempi quindi il metodo è quello di declinare esattamente quali sono le competenze uno per non fare discussione uno per trovare chi è responsabile due per impegnare a risolvere quei problemi ma se tu mi metti persone che non hanno quella competenza è evidente che i problemi non si risolveranno ma diventerà una mediazione politica che in realtà non tal c'è qualcuno che chiama telefona e dice dai questa cosa la devi fare non è possibile non sarà più possibile ma qualcuno si spaventa di questo atteggiamento votasse altrove Luigi c'è qualcosa perché sento che suona di tutto lì facciamo le ultime domande e poi chiudiamo per passare a Matera 2019 di cui sì allora c'è Alcatraz che fa una domanda un po' particolare chiede se è previsto nel suo programma se sono previsti alcuni provvedimenti iniziative per migliorare l'integrazione delle comunità di immigrati che ci sono in città ci sono a Matera in questo momento 2600 cinesi nessuno sa dove vivono dove dormono dove mangiano cosa fanno nel tempo libero come si relazionano con il resto della città è follia pura nessuno sa che a Matera ci sono 2500 cinesi cioè è il 5% della popolazione raggiungeremo il 5% forse a marzo perché siccome devono sostituire a 21 centesimi al minuto il lavoro cosa da pazzi il lavoro che i materai non possono fare per ovvi motivi perché se no non camperebbero e quindi c'è una siamo diventati un attrattore di cinesi senza vederli senza accorgerli questo comunque succede un po' dappertutto i cinesi sono comunità piuttosto chiuse così pesante dal punto di vista della proporzione non esiste in nessuna parte d'Italia esiste una città che hanno il 18-20% di immigrazione spalmata in modo non dico equilibrato ma comunque con punte più di certi paesi rispetto ad altri se penso a aree del nord-est dove arrivano più rumeni più parte del nord-Europa ma una concentrazione a percentuale così alta rispetto alla popolazione dei cinesi credo che la materia abbia il record anche perché è diventata attrattore di tutti i cinesi che stavano in Italia quelli che stavano se tu riesci a farli parlare ti dicono che molti stavano in Italia da 8 anni 10 anni questi stavano a Prato per loro passare da Prato a Matera è come rimanere sempre al buio perché non escono di casa non parla con nessuno e beh non è possibile non è possibile convivere con delle persone schiavizzarle in questo modo perché mi sembra pura follia poi sulla capacità di integrare a me proprio non me lo potete dire perché se vi racconto che mi successe con Harry Muteba va Muteba un vostro collega cameraman c'era messa le mani ai capelli un vigilo urbano che doveva dargli la residenza a Matera non credeva che dormiva a casa mia e vi porto il vigilo urbano che è vivo che vi dirà faceva a me eh dai non dire per servire c'è assurdo erano dei tempi già comunque vicini a noi però folli quindi di che vogliamo parlare che tra l'altro Henry adesso dove si trova ora lavora a parte che è un consulente dell'ambasciata ma lavora con Sky con una struttura esterna fa visita alle mie figlie quando si trovano una figlia che è a Milano quindi è una persona di famiglia sposato con figli lo ricordo anch'io insomma abbiamo lavorato insieme con Henry di che cosa stiamo parlando? io chiuderei qui se c'è qualcosa di flash no ce ne sono interessanti uno Riccardo ha azzardato un nome Pietro Laureano potrebbe essere un assessore con Tosto Sindaco posso dire io una cosa? sì fatevi rispondere no no la dico perché perché ti conosco a rischio di apparire imparziale cioè se parla di Renzo Piano o di non lo so Amerigo Restucci o di non so chi altro cioè grandi sogni ma capacità adeguate di realizzazione di questi sogni comunque la chiudo qui perché mi diranno Donato sei un tipo Tosto allora sentiamo comunque effettivamente vorrei cogliere questo passaggio sicuramente il popolo del web è un popolo velocissimo attento forse schierato anche ideologicamente in genere tendiamo ad essere abbastanza liberi cioè se c'è una cosa buona che convince ma forse però forse allora voglio parlare a quelli che sono ideologicamente schierati ne voglio parlare con tranquillità specialmente di coloro che sono orientati a rompere questa logica dei due poli non devo fare la campagna elettorale alla lista 5 stelle alla lista Matera Cambia alla lista Scarciolla ma lo dico a coloro che hanno il desiderio di sostenerli fate bene ma lo dovrei dire forse perché sono interessato perché li ritengo persone che sono di area di sinistra per cui più voti tolgo l'accento di sinistra no assolutamente no forse non mi conoscete se pensate a questo lo dico e l'ho detto prima e lo ripeto perché se esiste la capacità di essere catturati da qualche cosa in cui uno crede non si può svendere a questi personaggi che hanno impoverito la nostra città da 18 anni fate bene ci ritroveremo sul castello sulla morgia e avremo le stesse idee e lo stesso coraggio dopo oggi facciamo la nostra parte più chiaro di così insomma si muore direi a questo punto di fermare la chat magari potete continuare a dibattere no posso dare un suggerimento certo se mi è concesso questo è comunicazione vai io ho un indirizzo email che si chiama angelo.tosto fiocciolina datacontact ctfinale.it chi vuole delle risposte rispondo a tutti alle due alle tre di notte qualche volta aspetto un giorno solo a me non mi risponde quando gli scrivo email no no bros bros calma calma è che mi metti pure delle cose strane nel tuo nelle tue email quindi alle volte si nasconde mi hai messo delle cose strane poi se ne giro una è una cosa strana sì però dico scrivetemi scrivete pure il vaffa va bene ma il vaffa senza una motivazione non so come rispondere ma se mi dite vaffa è una motivazione io vi dico come la penso quindi scrivetemi io vi rispondo non abbiate cioè non mi graffiate non mi fiate male fate una domanda vi rispondo perché crede che il tempo sia finito ed è tiranno però se l'ansia di sapere è questa apriamo un sito web domani mattina ci mettiamo in chat la mattina sede la nota storta la facciamo la nota storta a due se necessario allora siccome il tempo è veramente finito e abbiamo alcune altre cose c'era in scaletta un intervento di Antonio Andrisani che comunque potete saltiamo a questo punto a pie pari ma poi lo mettete in coda lo voglio sentire Antonio Andrisani lo vuoi sentire Antonio Andrisani ma come si fa a saltare la donna lo teniamo riusciamo a fare il tempo sforeremo ancora questa volta ah beh poi se da pagare paghiamo paghiamo un sangue paghiamo un po' di soldi no che sangue soldi non opere di bene e allora di cosa ci parlerà Antonio cioè ho fatto uno degli incontri tematici gli approfondimenti tematici della nota storta che trovate integralmente sul sito www.lanotastorta.info dal quale ho estrapolato un frammento per la verità e spero che Antonio non me vorrà nel caso mi scuso anticipatamente che quasi a telecamere spente abbiamo registrato perché finalmente qualcuno che ha insomma un po' un'idea diversa devo dire anche molto simile alla nostra alla mia quella forse anche di Matera Town riguardo appunto questa candidatura a capitale europea della cultura e sono molto curioso a questo punto non solo di proporre quanto ha detto Antonio Andrisani al riguardo ma poi di sentire Angelo Tosto che sta rispondendo già adesso dei messaggi di posta elettronica vuol dire che il web funziona per piacere allora sentiamo Antonio 18 telefonate e 62 messaggi vuol dire che funziona e che i telefoni si spengono quando si va in diretta no e non sento andiamo sentiamo Antonio Andrisani allora io devo dire la verità io non ho seguito molto questa vicenda ovviamente in linea di principio quindi non conoscendo i dettagli non mi permetto di parlarne approfonditamente sicuramente in linea di in linea teorica diciamo non vi è nulla di male perché questa città o chi per lei abbia proposto questa candidatura una cosa è certa nel 2019 non so come staremo messi ma al momento questa città ha un grandissimo problema un grandissimo gap culturale per cui dovremmo nel quotidiano cercare di creare un dibattito per evidenziare questi grandissimi problemi culturali avere coraggio anche nell'ammettere che ci sono e cercare di affrontarli seriamente e quotidianamente perché a mio avviso questa è una città che ha un grandissimo problema legato alla cultura si parla tantissimo di cultura ma io frequento le librerie non c'è mai nessuno quasi mai nessuno frequento i cinema non c'è quasi mai nessuno parlo con moltissima gente è noto che c'è una grande trascuratezza invece per l'attività culturale che non sia superficiale diciamo quindi che questa città abbia requisiti in assoluto architettonici storici per una candidatura ci sta bene però cominciamo davvero a guardarci in faccia e cerchiamo di aprire un dibattito serio sulla sulla cultura in questa città che a mio avviso è pochissima e questo purtroppo lo dico non c'è una classe di intellettuali vera ma solo nella maniera più assoluta in grado di giudicare e di di tenere sotto controllo tutto quello che avviene nel campo dell'arte nel campo delle professioni nel campo del del sociale c'è c'è tantissima gente che non è assolutamente preparata ma il cui comportamento non viene stigmatizzato da nessuno perché il livello culturale è molto molto basso condivido parola per parola ciò che mi ha detto Antonio l'ho detto per telefono prima che ne pensi del 2019 tu ne hai sentito parlare di questa sono totalmente contro per quale motivo per un motivo semplice che se noi dobbiamo pensare a candidare materia capitale della cultura nel 2019 avremmo dovuto nel 1989 cominciare a fare cultura noi siamo al 2010 e vogliamo candidare nel 2019 quindi illudendo nove anni noi saremo cancellati sono pochi zero però che possiamo fare possiamo un mattone sopra un mattone immaginare che questa città innanzitutto deve essere amata dai materani scoperta dai materani promossa prima dai materani e poi apprezzata all'esterno ma i materani dovrebbero anche imparare ad amarsi tra loro certo per questo dobbiamo pacificarla perché quando Antonio dice che il livello culturale è molto basso ma il gallismo perché lui parla di questi eccessi di parla di eccessi è semplicemente a chi grida di più ma si può fare la cultura gridando se la cultura non è il pavimento che sale tutti quanti noi che c'è uno che è più in alto non serve assolutamente a niente è come in economia se c'è uno che è ricchissimo in realtà sono tutti poveri c'è addio quindi dobbiamo modellare totalmente una condizione opposta cioè dobbiamo sparigliare dobbiamo spaccare dobbiamo ribaltare questa logica che ci ammazza e io sono sicuro che se uno ragiona come abbiamo detto sul salotto è uguale alla cultura è uguale al problema dei sassi il gallismo di quello che dice via le macchine dai sassi ho capito ma tu ci ammi che cosa parli fai prima a pigliare ogni giorno a portare la carrozzina del tuo bambino a scuola prendila la macchina chiama un medico che non vuole venire a piedi no ma certo non ci può passare ho capito e gli amici come passano e l'acqua minerale chi la porta quindi li vogliamo dispopolare i sassi siamo pazzi quello che parla via Castello è un esempio non c'è nessuno che abita via Castello perciò è preso quell'esempio potrebbe dire quello che abita in piazza Duomo in qualsiasi strada quindi non c'è un riferimento personale ha tutto il diritto di parlare ma prima di parlare deve vivere là dentro un giorno un mese ascoltare le persone poi ha il diritto di parlare e questo vale anche per chi fa cultura e anche per chi fa economia e anche per chi fa il sindacalista e anche per chi fa il sindaco e se no di che facciamo rifacciamo nelle varie modalità comunque sembra lo stesso difetto mortua vita mia che me ne frega a me Matera vuol fare la differenza un disastro un disastro un disastro e tu chiedi a Matera ma tu rispettano l'ambiente tutti tutti rispettano l'ambiente ma Matera rispettano l'ambiente no ti rispondono e chi non risponde gli altri non lo rispondono il 50% dice il 60% che a Matera non si rispettano l'ambiente tu li indeloghi tutti tutti rispettano l'ambiente ma com'è possibile è il gallismo è l'ego è questa logica perversa che è sopra gli altri a tutti i livelli in tutti i settori e di qualsiasi argomento ma finiamola quindi non avrebbe tanto senso la domanda che poi pongo in chiusura di trasmissione a margine di questa di questa rubrica il tarlo del 2019 secondo te quindi come ci dovremmo preparare hai un libro un disco un film preferito da segnalarci che ci hai portato siccome mi hai detto porto siccome sapevi che era no e per non truffiamo le persone mi hai telefonato mi hai detto preparati un disco un libro ti ho portato un cd non so se audio video pensavi che tu sei di sicuro che ti portassi un mio artista preferito Goz invece no ti ho portato questo le parole le hai scritte tu non le hai scritte tu le parole le hai scritte il cavaliere tutto l'avete tolto si può tenere il sottofondo ma la regia è brava veloce subito soprattutto perché c'è una ragazza perché le donne sono molto più brave più sveglie noi abbiamo la capacità di fare una lista matera donne matera donna vabbè ora apriremo un fronte di polemiche che non finisce mai su questa cosa comunque di chi è questo brano? innanzitutto dove lo trovano? lo trovano andando alla caccia perché è diventato un pezzo raro non c'è non è in commercio ce l'hai solo tu no però si trova su youtube per esempio cercando matera è un'altra cosa o matera è come una rosa matera è come una rosa musica e parole del cavalier cavalier Martinelli bravo esecuzione il gruppo Uagnini vuoi essere cavato agli occhi perché? così a prescindere vabbè saluto Angelo Tosto ringrazio Francesca abbiamo fatto fare tardi perché le persone ci hanno pure da fare chissà se ci hanno seguiti e ci seguiranno quindi sarà questo il motivo della tua campagna di comunicazione tanti auguri anzi in bocca al lupo ad Angelo Tosto tanti ringraziamenti a chi ci ha seguito via chat ed ha interagito con noi ringraziamo Luigi Mazzoccoli giornalista del resto il resto esce sabato in edicola tutti i sabati lo trovate in edicola grazie a Francesca Michele Buono a Michelangelo Tarasco un saluto particolare a Michele Buono e a Michelangelo Tarasco e ai siti internet www.materatown.net ci trovate su www.lanotastorta.info su egia.it su sassilive.it e direi che a questo punto possiamo salutarci grazie tante ad Angelo Tosto ciao ma aspetto un po' no non lo so ma stiamo ancora in onda grazie a tutti i stati mi sono ma aspetto un po' grazie a tutti i stati e a tutti i stati ma aspetto un po'